Casi di positività percentuale di contagi e ricoveri tornano a salire nell'ultimo bollettino regionale sul coronavirus. In Toscana sono 667 in più i nuovi positivi con un'età media di circa 49 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati oltre 8.300 tamponi, escludendo i test di controllo su 3.000 soggetti testati il 22,2% è risultato positivo. La provincia con la maggiore variazione di contagi rispetto alla giornata precedente è quella di Firenze che torna in tripla cifra più 179 casi, seguita da Rezzo e Livorno più 86, soltanto 5 contagi in più invece a Grosseto. Gli attualmente positivi sul territorio in rialzo dello 0,5% sono 9.500, mentre le guarigioni superano la soglia delle 110.000 e rappresentano l'89,2% dei casi totali. Tornano ad aumentare anche le persone ricoverate nei posti letto degli ospedali toscani dedicati ai pazienti covid. Ad oggi 973 più 12 rispetto al bollettino precedente, di cui 146 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano anche 18 nuovi decessi, 11 uomini e 7 donne con un'età media di quasi 83 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana le vittime hanno superato quota 3.800.